È molto caldo, c'è chi lo soffre di più, chi lo soffre di meno, ma insomma è una situazione climatica, devo dire, ai livelli di guardia. Quindi chi ha delle condizioni o di salute o di età un po' avanzata deve fare una cosa semplice, stare in casa laddove possibile. Laddove non possibile difendersi attraverso delle regole che sono basilari, che sembrano banali, ma che fa la differenza tra sentirsi meglio o sentirsi peggio. Poche semplici raccomandazioni per affrontare queste giornate di temperature roventi difficili da sopportare, soprattutto per gli anziani. È infatti allarme praticamente in tutta Italia e Arezzo non fa differenza con l'ondata di caldo africano che non accenna da arretrare. Le raccomandazioni sono semplici ma sono importanti, quindi quella di non uscire durante le ore più calde, anche se in questo momento mi pare che tutte le ore siano molto calde, di bere molto e soprattutto laddove siamo di fronte a persone anziane o fragili, di affidarsi a familiari per poter fare riferimento alle cose di quotidianità. Dal comune, proprio in questi giorni di caldo record, anche un alert tramite Whatsapp. Raccomandandoci che ci sia una sorta di attenzione di vicinato, perché in questo momento le relazioni personali sono vitali per attenzionare chi può avere bisogno, anche per dare una mano se c'è necessità. Al tempo stesso è da ieri, ma credo che al nostro San Donato da ieri l'altro, già un codice calore assolutamente pienamente considerato come elemento di determinazione sanitaria. Ci sono le regole del Ministero della Salute che sono uscite ieri e che abbiamo condiviso. I centri di aggregazione sociale del Comune di Arezzo, come sempre, sono iperattivi anche per dare luoghi più raffrescati dove le persone anziane possano ritrovarsi e stare in compagnia. Non ci sono cose particolari da fare, ci sono cose da non fare e soprattutto è importante ricordarselo.